Stop! Avevamo detto dall'altra parte dovete entrare. Ma chi è che li ha chiamati a questi? Mi capisci quando parlo? Che lingua parlo? Riproviamo, dai! Motore! Out of the blue, scena 3, seconda, check! Azione! Stop! Guarda, allora, avevamo detto con la bicicletta devi ripartire dall'altra parte. Tiriamo un tocco di trucco. Io non trovo niente da ridere, perché c'è da ridere? Allora, entri dall'altra parte e la rifacciamo. Prima finiamo, prima andiamo tutti a casa, ok? Vai! Motore! Out of the blue, scena 3, seconda, check! Azione! Posso? Stop! Perfetto! Bravissimo! Come sei entrato? Alla grande, hai fatto tutto bene. Abbiamo solo avuto un problemino di luce. Scendiamo col 5000, per favore, un po' più basso, grazie. Riprendi come sei tu. Vai! Motore! Out of the blue, scena 3, seconda, check! Azione! Cosa devo fare? Ditemi poi cosa devo fare! Va benissimo! Un attore! Tom Cruise, uguale!